Dare la colpa a Putin, agli hater, agli hacker, ai troll, alle fake news, è molto più comodo che domandarsi per quale motivo da 15 anni a questa parte. Le elite perdono e i populisti cosiddetti vincono. Uno dei primi a dare la colpa a Putin è stato Renzi. Non so se ricordate, nel novembre 2016 mancava un mese al suo referendum sulla sua schiforma costituzionale e i sondaggi davano la vittoria del no. Allora lui scatenò la stampa amica. Per esempio la stampa di Torino, con un commissario detective importante, tal Iacoboni, fece uno scoop sensazionale. Palazzo Chigi denuncia i tweet Pro 5 Stelle, l'account della cyber propaganda Pro 5 Stelle. Che cosa era successo? Che il sottosegretario Lotti aveva denunciato in procura una gigantesca spectre grillina fatta di account indistinguibili, algoritmi, connessioni, metadati e false notizie contro Renzi e contro la sua schiforma. L'account era proprio intitolato a un'amata Ari pericolosissima e astutissima, che infatti per stornare i sospetti dai 5 Stelle, quale nickname si era scelta? Beatrice Di Maio. Pensate la furbizia di usare lo stesso cognome del leader dei 5 Stelle. Una top mediator, una star del web. E lì il commissario Iacoboni piazzò la domanda delle cento pistole. Beatrice Di Maio ha qualcosa a che fare con la casaleggio o la comunicazione ufficiale dei 5 Stelle, ma soprattutto c'entra la Russia di Putin, assai connessa al web italiano 5 Stelle. Grillo e Putin notoriamente sono così. Tutti i giornali, i telegiornali, i siti ripresero questa notiziona. Poi purtroppo Franco Becchis su Libero svelò chi si celava dietro Beatrice Di Maio. Tenetevi forte perché era la moglie di Brunetta. Pensate questa top mediator che collegava Putin a Grillo. La moglie di Brunetta. È paziente.